Secondo l'analisi redatta dal Centro Studi Turistici Nazionale di Asso Turismo per questo ponte del 25 aprile, la regione Abruzzo continua a mantenere il trend positivo degli anni scorsi con il 78% del tasso di occupazione delle strutture ricettive. Una condizione che ha portato all'apertura di molti alberghi e stabilimenti balneari, anche se l'incognita meteo con il crollo delle temperature in questi ultimi giorni hanno di fatto influenzato in particolare le scelte degli ultimi minuti. Un momento di consapevolezza nel senso che veramente molti stabilimenti balneari e molti alberghi sono rimasti aperti e questa è una cosa importante perché significa che la consapevolezza dell'importanza di questo periodo è finalmente arrivata. Purtroppo in questo caso il tempo atmosferico non ci ha dato ragione, però le presenze in ogni caso ci sono, avrebbero potute essere molte di più ma le presenze ci sono sicuramente. Sperando in un meteo più clemente, con temperature e rialzo, il prossimo appuntamento importante per il turismo nella nostra regione è rappresentato dal primo maggio. Sicuramente sì, sul ponte del primo maggio puntiamo molto, abbiamo delle bellissime sensazioni sulla costa dei Trabucchi e delle bellissime sensazioni sull'Aquilano, ma anche il Terramano con il progetto delle Virtù andrà sicuramente bene. Ecco, sul primo maggio contiamo di recuperare tutto quanto purtroppo si è perso in questi giorni. Possiamo dire che questo sarà un banco di prova importante in vista dell'estate? Sì, lo è. Due banchi di prova importanti sono. Primo perché è in vista dell'estate e dipostiamo che l'Abruzzo è aperto. Secondo perché l'Aquila, città della cultura, sta cominciando significativamente a tirare e dobbiamo prepararci per questi eventi. Secondo alcuni dati nazionali, l'Abruzzo è una regione che piace sempre di più, in particolare per la sua proposta turistica che dalla costa all'entroterra è ricca di stimoli. L'Abruzzo è una regione che veramente sta piacendo sempre di più. Dobbiamo migliorare per quanto attiene gli stranieri, purtroppo siamo deboli, lo sappiamo, li dobbiamo molto migliorare, molto bene per il turismo italiano. Speriamo di migliorare moltissimo sul turismo della cultura perché l'Aquila ci sta aiutando molto.